se ti scegli però che stava a gioca guarda i bug a sto gioco guarda è un numero indesibile è uno specchio che è? non è uno specchio ragazzi è sto muro invisibile su code ho messo appena cosa ho messo appena cosa ho messo appena cosa vediamo il quattro generale